Una ragazza di Casal Puster Nengo in provincia di Lodi ha trovato un bambino di soli tre anni che vaggava da solo per le strade trafficate del centro città venerdì scorso 5 maggio. Vedendolo solo è spesato la giovane e lo ha fermato e portato al sicuro. Contattata la polizia locale, gli agenti hanno rintracciato i genitori del bambino che hanno raccontato come il piccolo fosse riuscito ad aprire la porta di casa e ad allontanarsi mentre loro erano impegnati a badare alla neonata sorellina. Fortunatamente nessuno si è fatto male ma il padre e la madre del bambino sono stati denunciati per abbandono di minore.